Resi noti i calendari del campionato di Serie A2 di Basket. Lega Basket e Federazione precisano che si tratta di calendari provvisori, in attesa della conferma, legata al parere della Comtec, della partecipazione di San Severo e Juve Caserta. Conferma che però sembra scontata. I Roseto Sharks, di coach d'Arcangeli, faranno il loro esordio in casa, domenica 6 ottobre, affrontando Udine. Prima trasferta la settimana seguente, proprio al Palamaggio di Caserta. Quindi Imola in casa è trasferta a Verona, a precedere il primo turno infrasettimanale, che arriverà mercoledì 30 ottobre alle 21, quando al Palamaggetti sarà di scena la neopromossa San Severo. Il girone d'andata si chiuderà domenica 15 dicembre con Roseto Ferrara. Ufficialmente diramati anche gironi e calendari del campionato di Serie B. Le abruzzesi, Teramo, Giulianova e Chieti restano nel girone C, insieme alle sette marchigiane, Ancona, Civitanova, Fabriano, Iesi, Sutor, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio e Semigaglia, e alla novità rappresentata dalle sei emiliane, Cento, Cesena, Faenza, Ozzano, Piacenza e Rimini. Subito derby alla prima giornata, tra Giulianova e Chieti, domenica 29 settembre. Teramo esordirà lo stesso giorno a Iesi, contro la formazione reduce dalla retrocessione dalla 2. La domenica seguente i Biancorossi giocheranno la prima in casa contro Rimini. Giulianova sarà invece di scena a San Lazzaro di Savena contro Cento e Chieti ospiterà Fabriano. Alla quinta giornata, domenica 20 ottobre, sarà il Palacastrum ad ospitare il derby tra Giulianova e Teramo. Il girone d'andata si chiuderà domenica 5 gennaio con Teramo Faenza, Giulianova Cesena e Chieti Ozzano.